Gli Stati Uniti d'America e USA contro la Cina. Sono americani arrabbiati, l'azzardo a dire incazzati quelli che accusano e lanciano quindi pesanti accuse nei confronti della Cina, il paese orientale per eccellenza, facendo sapere ai cinesi di essere la causa proprio di questo coronavirus. In particolare il pensiero comune degli americani sarebbe il seguente Bastardi cinesi, avete creato un virus in laboratorio, vi è scappato e lo avete nascosto al mondo, vergognatevi, brutti, pessivi, puntini, puntini. Sarebbe questo, diciamo così, tradotto in parole gergali, in parole non tecniche e non in parole, diciamo così, dolci, educate, rispettose, il messaggio che l'America, gli Stati Uniti d'America e l'USA avrebbero lanciato nei confronti della Cina, a rea del fatto di aver creato un virus in laboratorio a Wuhan e di averlo nascosto al mondo intero. Un saluto caro D'Aleandro, il narratore italiano di YouTube Italia, al prossimo video.